Tullio Gritti, un risultato che lascia aperte le possibilità all'Atalanta di arrivare a conquistare la finale, un 1-0 avrebbe potuto essere un pareggio, avrebbe potuto essere un risultato diverso, però forse va bene così? No, un risultato che magari nessuno di noi si aspettava, chiaramente pensavamo che è così diverso, però venire a Firenze non è mai facile giocare, la partita l'ha dimostrato, però io credo che questo 1-0 sia recuperabilissimo perché tanto giochiamo nel nostro stadio con i nostri tifosi che sappiamo quello che ci possono dare e di conseguenza io credo che fra tre settimane, quando rimetteremo la testa sulla semifinale di Coppa Italia, sarà tutto diverso a Bergamo. Un'Atalanta diversa tra il primo e il secondo tempo? Sì, secondo me nel primo tempo abbiamo avuto un pizzico di paura in certe giocate che invece nel secondo tempo ci siamo liberati, abbiamo fatto quello che sapevamo fare, che sappiamo fare sempre, potevamo pareggiare, potevamo anche prendere magari il secondo gol, però noi abbiamo un grande portiere, però potevamo anche pareggiare, non è venuto questo 1-0, non ci deve abbattere assolutamente, è un risultato ribaltabilissimo e io credo che a Bergamo lo faremo. Ma vi aspettavate una Fiorentina così? Ma questa è la Fiorentina, le partite con la Fiorentina sono sempre state queste, sono sempre state partite difficili perché è una squadra forte, allenata bene da Vincenzo Italiano e di conseguenza è sempre stata anche lei nel giro del Coppa Europeo in questi ultimi anni, anche se dietro noi e quindi sono partite difficili e questi sono i risultati. Comunque noi ci siamo fatti trovare pronti soprattutto nel secondo tempo e il primo tempo ci servirà da lezione per il ritorno.